Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ciao oggi, ben ritrovati nel mio canale e farò la descrizione delle esche che possiamo utilizzare per Lucio, Bass e prossimamente uscirà un nuovo video per la pesca alla trota iniziamo ora da Lucio, possiamo trovare i vari tipi di esca, sicuramente quelli migliori sono i classici jerk da date, movimenti intercontinui da delle cercate, classici, maschi monster o anche rapa la Minov con l'imitazione di una laschina, altro jerk, questa è della marca della Carperman, comprata al Decathlon, molto buono Final Candle ha due pezzi, affondante che con questa paletta va a dare le palettate nel fondo come se fosse un'imitazione di una carper poi possiamo trovare il classico Martin, il Martin del 20 con codina rossa inimitabile per il luce, sempre molto forte jig jerk per il luce, sempre del Decathlon, invece possiamo trovare un piccolo script che sono quei pesciolini con le palline tutti steno dentro e danno dei colpettini, possono essere molto utili poi possiamo trovare il classico ondulante, il rietro argentato e davanti colorato con l'imitazione di un pesce poi passiamo a uno pesce della Strike Pro con un palettone, in modo che vada a palettare il fondo quando c'è l'inverno alla ricerca di pesce siamo ora le tipiche esche da bassa, anche da luce possiamo trovare il topo squeak rat con divisi in due pezzi, con coda intercambiabile, una novità da bianca a marrone la possiamo avere poi possiamo trovare un piccolo crank rosso con striature nere crank ancora più piccolo, adatto anche per trotine, trote, con imitazione sempre di una laschina poi possiamo trovare ad esempio un classico jig montato come trailer, un gambero da danno a delle colpine, in modo che sembra che mangi nel fondo e poi possiamo trovare una rana da top water che fa questo movimento svolgendo le gambe una classica rana da top water, altra rana da top water da innescarla con l'amo spinner buzzer, poi io adesso che non ho qui possiamo trovare ad esempio altri spinner baits e altra roba passiamo ora alle gomme allora per le gomme possiamo trovare dei classici falcetti di colore bianco da montare con delle teste piombate poi dei classici vermoni da walkie da innescare nel mezzo e dateni a colpettini molto redditizi poi possiamo trovare degli shad neri da innescare a Texas poi possiamo trovare due colorazioni di cray crew cioè di gamberi una abbiamo in colorazione blu notte con striature nere e celestiche adesso come potete vedere uno durato adattabile in vari tipi ora guardiamo diamo un'occhiata agli ami come vi farò vedere allora come potete vedere abbiamo varie tipologie di ami dei classici ami da Texas agli ami con la vite invece hai gli ami da walkie da inserire con questi qua e inserirli nel mezzo e i classici lunghi ami adattabili anche per dei falcetti bene con questo ho finito seguitemi sempre nel mio canale fino al prossimo video ciao